Lei fa parte del comitato scientifico dell'alleanza contro la povertà, quali sono i tre obiettivi principali che questa rete si pone? Il primo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica italiana nei confronti del problema della povertà e della mancanza di strumenti nel sistema di welfare italiano che possano contrastare questo fenomeno. Il secondo è quello di offrire delle soluzioni di policy, delle soluzioni tecniche che possano aiutare a risolvere questo problema. Il terzo è quello di fare pressione sui decisori pubblici affinché introducano uno schema di contrasto alla povertà in Italia. Quali sono i punti essenziali del suo intervento al convegno? Il mio intervento riguarda gli aspetti di inserimento lavorativo dei beneficiari di uno schema di reddito minimo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tu prendi un sussidio contro la povertà ma se sei in età da lavoro, se sei abile al lavoro, se non hai carichi familiari che ti impediscono di cercare un lavoro, devi attivarti per cercare un lavoro. Però devono anche esserci servizi che ti aiutano in questa ricerca di lavoro. Recenti riforme delle politiche attive in Italia intendono proprio aiutare i beneficiari di prestazioni sociali a cercare e trovare un lavoro. Il mio intervento riguarda questi aspetti alla luce di queste recenti riforme. Al contempo però dobbiamo guardare a quanto accade negli altri paesi europei perché non possiamo aspettarci che tutti i beneficiari di uno schema contro la povertà trovino immediatamente lavoro. Questo non accade neanche nei migliori casi europei. Allora questo è utile come controllo di realtà per non avere aspettative troppo elevate. Dobbiamo avere delle aspettative realistiche, dobbiamo far funzionare il sistema auspicabilmente come funziona nelle migliori pratiche dei paesi europei, ma non possiamo aspettarci qualcosa che non accade in Danimarca o in Finlandia. Grazie.